I fratelli Froci Editori, in collaborazione con West Point University of Rechions, Massachusetts, sono lieti di presentare Le grandi recchie della storia, la prima colossale enciclopedia a fascicoli settimanali con la vita e la storia dei più grandi frocioni dell'umanità. Le grandi recchie della storia, l'enciclopedia che fa per noi, all'interno le schede maglia, le schede cucito ed un preziosissimo vocabolario con i nomi di tutti i froci, dalla A di Aristotele alla Z di Luccariello. Le grandi recchie della storia, fratelli Froci Editori.